c'è non ho capito stasera mai portato al cimitero costo tempo di merda che senso già va bene il tempo non è importante semplicemente che era arrivato il momento di farti questo discorso tu lo sai che io sono stata sposata prima di te no è con ciò era il momento che tu riconoscessi dice fabio è il primo e lui lui è venuto a mancare proprio il giorno stesso delle nozze poco dopo la funzione brutto bruttissimo e flavio invece la sera dopo delle nozze anche lì è stata una cosa una scena veramente difficile da dimenticare per quello che riguarda fausto forse ancora peggio perché lui stavamo fuori facendo una gita subacquea non è risalito però io franco con te vorrei che fosse tutto diverso sa io sto pensando al quale giorno in cui ci sposeremo a quello che potremmo fare franco